E' stato arrestato dalla squadra mobile di Palermo Roberto Milankovic, il 22enne di Ettinia Rom, resosi protagonista ieri pomeriggio allo Zen, insieme ad un complice di un conflitto a fuoco con una pattuglia della polizia durante la quale un agente è rimasto ferito ad un braccio. Interrogato per tutta la notte nei locali della questura, il giovane è adesso accusato di tentato omicidio, ricettazione, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento. La sparatoria è venuta ieri, intorno alle 18.30, nella zona di Marinella. Una pattuglia in servizio aveva cercato di fermare un'auto che procedeva a forte velocità, una Hyundai Autos con a bordo due giovani. Anziché fermarsi all'alte, i due sono fuggiti in direzione dello Zen. Raggiunti dalla volante, uno dei due occupanti, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe sceso dall'auto ed estraendo una pistola avrebbe dato inizio a conflitto a fuoco, ferendo al braccio il poliziotto. Nella sparatoria anche il complice sarebbe rimasto ferito ad una gamba. Fuggiti uno a piedi e l'altro a bordo dell'auto, i due sono stati ricercati per tutta la notte dagli agenti della polizia, giunta allo Zen con decini di volanti per perquisire palmo a palmo gli scantinati dei casermoni del quartiere e il campo dei nomidi della favorita. Milankovic, alla guida dell'Athos, è stato bloccato dalle volanti in via dei quartieri e condotto in questura per essere interrogato. Un altro connazionale del ragazzo è stato interrogato dagli agenti, ma è stato liberato nella notte. Non si esclude però la presenza di un terzo complice nell'auto fuggita all'alte della polizia.